Il mercato sta continuando a crollare con un Ethereum che perde in soltanto 24 ore un 8,33% ma la causa non sembra essere gli MTGOX creditor. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon giovedì mattina a tutti. Mi perdonerete se non mi mostro in viso ma attualmente non mi trovo in ufficio ma non vi posso lasciare ovviamente da soli questa mattina perché vi voglio mostrare delle cose molto interessanti soprattutto Bitcoin come soprattutto anche Ethereum nell'ultime 24 ore stanno perdendo una buona percentuale. Infatti come andremo a vedere Ethereum sta accusando una perdita dell'8,34% e soprattutto ragazzi ci sono delle cose molto interessanti che voglio mostrarvi come il fatto che oggi comincerà il Bitcoin 2024. Ciò vuol dire una delle conferenze più importanti al mondo dove parleranno di Bitcoin ma soprattutto dove parlerà Donald Trump. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto? Perfetto passiamo con la visuale su investing.com in modo da andare a vedere molto rapidamente che dati usciranno oggi. Oggi giovedì 25 luglio ci sarà il Durable Good Orders ok appunto stiamo parlando per quanto riguarda i prezzi del bene al consumo ma quel che voglio mettere sotto esame ed evidenziarvi è il GDP. GDP che ovviamente stiamo parlando del PIL. PIL americano per quanto riguarda il quarter 2. attenzione perché ci aspettiamo, meglio gli analisti si aspettano un PIL in crescita rispetto al dato precedente di 1,4 ci aspettiamo una crescita almeno dello 0,6% quindi attenzione perché questo è uno dei dati più importanti che ci fa capire come sta andando l'economia americana se in crescita appunto nel quarter 2 del 2024 oppure in decrescita. passiamo però con uno dei fatti più caldi e soprattutto uno dei fatti più impattanti per quanto riguarda tra qui e FNAN ovvero le presidenziali americane pare che Kamala Harris secondo diverse aspettative per il 58% quanto riportato appunto da Polimarket il 58% appunto delle persone si aspetta una vincita di lei piuttosto che Donald Trump ma qual è in pratica la visione di Kamala Harris per quanto riguarda il mercato delle criptolute? secondo il founder di Skybridge ovvero Anthony Scaramucci ha dichiarato che appunto la Harris ha privatamente espresso però ragazzi prendiamo sempre con le pinze nonostante comunque sia sia una persona di abbastanza influente quest'ultimo Anthony Scaramucci però comunque sia ha privatamente espresso un'apertura verso il mercato delle criptolute e sta considerando di parlare alla Bitcoin Conference la Bitcoin Conference che abbiamo appunto detto prima e soprattutto che questa conferenza partirà oggi è anche vero che queste dichiarazioni qui sono abbastanza discordanti perché alcune persone dichiarano che appunto Kamala Harris parlerà a questa conferenza invece alcune no infatti secondo il CEO di David Bailey ha confermato che non parlerà al Bitcoin 2024 di Nashville staremo a vedere un po' la situazione a prescindere che lei parli o no a noi ci interessa qual è l'apertura o la chiusura rispetto al mondo delle criptolute attenzione pare che il parlamento russo ha passato una legge che permetterebbe al Bitcoin e le criptolute di essere utilizzate come moneta di scambio internazionale per appunto gli scambi internazionali il che è una cosa molto molto interessante dichiarazione molto forte infatti Ferrari secondo quanto riportato da Reuters pare che permetterà il pagamento in cripto e Bitcoin anche in Europa abbiamo già visto in precedenza come abbia aperto questa situazione se non sbaglio soltanto ed esclusivamente per gli Stati Uniti ha utilizzato appunto gli Stati Uniti come progetto pilota per andare a valutare il pagamento in cripto e Bitcoin ma attualmente pare che abbia e stia considerando di aprire lo aprirà effettivamente anche in Europa quindi ragazzi se avete qualche Bitcoin da parte volete comprarvi una Ferrari direttamente in Bitcoin sappiate che potete farlo però considerate il fatto che Ferrari se non sbaglio appena ricevute le criptolute le damperà a mercato quindi sarà colpa vostra che vi comprirete la Ferrari in Bitcoin perché Bitcoin crollerà comunque a parte le cazzate procediamo perché pare che un altro colosso del mondo tech ovvero Uber ha detto che vuole accettare Bitcoin e cripto come payment method molto molto interessante passiamo però con una notizia d'impatto infatti Ashtex che appunto sappiamo benissimo che è in corsa per quanto riguarda Bitcoin, Ethereum eccetera eccetera uno degli enti emittenti più importanti per quanto riguarda questi strumenti su il mercato statunitense pare che abbia depositato un form S1 per quanto riguarda il cripto index ETF partirà con Bitcoin ed Ethereum al suo interno praticamente stiamo parlando appunto di un ETF che va a replicare complessivamente l'andamento di Bitcoin ed Ethereum sotto un certo peso ora in queste documentazioni non abbiamo il peso di Bitcoin il peso di Ethereum per quanto riguarda questo ETF però comunque sia molto molto interessante dove dopo l'approvazione appunto degli ETF su Bitcoin e conseguente anche quella di Ethereum vediamo come sempre più strumenti vanno ad essere applicati ora la domanda che ci dobbiamo fare è quando arriveranno quelli su Solana magari anche su altre criptovalute più importanti anche perché diciamo che questi ETF ibridi secondo me non c'è nessun problema che a questo punto la SEC li approvi perché ha già approvato quello singolo di Bitcoin quello singolo di Ethereum perché mai non dovrebbe approvare un mix di questi ETF comunque sia passiamo e prendiamo in considerazione che nonostante il mercato cripto come andremo a vedere a brevissimo sta crollando pare che non sia causa per quanto riguarda la situazione di MTGOX sapete bene come in questi giorni Kraken come altri exchange stanno distribuendo ai propri utenti o meglio a tutte le persone che sono rimaste vittime del caso MTGOX vediamo come nonostante che veramente tanti creditori hanno ricevuto i propri fondi comunque sia non li stanno dampando come lo stiamo vedendo lo stiamo vedendo che appunto il Kraken spot trading volume non è appunto salito chissà quanto di conseguenza chi ha ricevuto le proprie allocazioni almeno a primo impatto almeno in primo luogo non li sta vendendo ok molto molto interessante ragazzi prima di continuare vi ricordo che c'è la possibilità di utilizzare Nexo io Nexo personalmente siccome me lo chiedete in tanti lo utilizzo per la carta soprattutto però comunque sia dovete sapere che tra l'altro è una delle migliori a mio modo di vedere infatti c'è la possibilità di utilizzarla sia tramite carta di credito che carta di debito con conseguente cashback che può arrivare dal 2% e nello stesso momento detenere le nostre criptovalute con un EPR percentuale che può arrivare fino al 13% a seconda appunto di quello che depositiamo comunque sia ragazzi per chi fosse interessato lascio tutti i link qui sotto in descrizione a mio modo di vedere molto molto interessante almeno per quanto riguarda la carta e la sezione EARN ovviamente la sezione EARN prendetele sempre con le pinze perché sono degli interessi che possono arrivare fino al 16% ma che ovviamente possono variare a seconda di varie metriche ma adesso non perdiamo altro tempo e passiamo con la visuale su Crypto Bubbles infatti vediamo come attualmente soprattutto il mercato delle altcoin sta soffrendo sta soffrendo sul giornaliero infatti vediamo come sul giornaliero abbiamo FTM che perde un meno 9,5% Notcoin un meno 6,1% Lido un meno 10,8% diciamo che parecchi fondi stanno drenando dal mercato delle altcoin infatti vediamo come attualmente sulla visuale su CoinMarketCap abbiamo una Global CryptoMarketCap in decrescita del 4,14% in soltanto 24 ore infatti Bitcoin perde un 2,85% assestando il proprio prezzo a 64.000 dollari Ethereum allo stesso modo nello stesso lasso temporale perde un 8,25% assestando il prezzo a 3.160 dollari comunque sì la situazione è analoga anche su tutte le maggiori altcoin almeno in top 50 c'è chi perde il 4% chi il 6 chi il 5 la media comunque sia di un 5,6% ok chi ne sta soffrendo di più almeno per quanto riguarda la top 10 è Ethereum che sta succedendo? sta succedendo veramente una situazione analoga che abbiamo visto appunto con il lancio dei Bitcoin ETF io qui ho ancora il grafico praticamente messo a confronto quello di Ethereum con quello di Bitcoin vi avevo detto la possibilità che potevamo vedere un sell off appunto nei giorni successivi dell'approvazione proprio come è successo con Bitcoin se noi infatti andiamo a prendere il lasso temporale in cui è stato lanciato Bitcoin ovvero il 10 gennaio del 2024 approvazione appunto della SEC abbiamo visto come il giorno stesso e il giorno successivo sono state appunto delle giornate abbastanza incerte ok che però poi nei giorni successivi il terzo giorno successivo abbiamo visto un dump in una singola giornata di circa il 10% con una chiusura del meno 8% praticamente è quello che abbiamo visto anche oggi abbiamo visto che la giornata di ieri come anche l'inizio della giornata di oggi sono abbastanza disastrose infatti abbiamo visto come anche qui purtroppo Ethereum sta perdendo terreno ok abbiamo perso un meno 9,11% ovviamente ancora questo è una candela che deve chiudersi è appena aperta perché il giornaliero e ancora manca 19 ore però la situazione è questa quindi ragazzi andando a mettere appunto una visuale a schermo grande voglio andare a mostrare appunto prima l'andamento di Bitcoin e di Ethereum comunque stiamo vedendo una situazione analoga ovvero un sell The News possiamo chiamarlo così o comunque sia uno scarico post approvazione ecco questo è quello che definirei di più perché diciamo il sell The News è più attribuibile ad un evento che succede solitamente in un lasso di tempo molto stretto e soprattutto in concomitanza con l'approvazione in questo caso che doveva essere subito dopo degli ETF su Ethereum comunque sia vediamo come attualmente Bitcoin stia ricorreggendo anch'esso e l'importante è che almeno per oggi non andare a quotare con una chiusura al di sotto dei 63.900 dollari poiché questo è l'ultimo minimo qualora dovessimo andare a chiudere sotto l'ultimo minimo allora la possibilità di continuazione verso il ribasso c'è il secondo punto d'approdo sono i 62.700 dollari che coincide con questo massimo relativo precedente ok nonostante ciò se andiamo a vedere la situazione sul settimanale in realtà anche se dovessimo andare a prendere addirittura i 59.200 dollari meglio però fermarci a 60.900 dollari potrebbe essere benissimo un ritracciamento per poi riprovare a ripartire verso il rialzo ok comunque passando con Ethereum molto rapidamente andiamo a vedere la situazione infatti anche qui Ethereum sul weekly vediamo come anche qui per adesso abbiamo una situazione non troppo disastrosa anzi andiamo a prendere appunto Fibonacci abbiamo appena ritestato lo 0.5 lo stiamo ritestando adesso possiamo benissimo arrivare anche allo 0.618 e andare ad comunque non variare questa situazione ok quindi l'importante è che qui non chiudere sotto i 3.100 dollari ok andando a vedere appunto sul grafico daily vediamo come siamo ancora assolutamente nel range ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per quanto riguarda Nexo e tutte le nuove promo per quanto riguarda appunto Bitget eccetera eccetera fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi aspettavate uno scarico post approvazione etf su Ethereum un po' ne avevamo già parlato negli scorsi video ed effettivamente si sta avverando questo brutto sogno se non l'avete ancora fatto vi chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendo al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao